Ciao amici, siamo arrivati al momento di parlare del re degli oli. Sto parlando del frankincense, che è l'incenso, è l'olio più prezioso per quanto riguarda, per mio umile parere personale, insieme alla mia ragli oli più preziosi che ho in casa. È la bosveglia ed è un distillato, è distillato dalla resina della bosveglia, che è la pianta appartenente alla famiglia della burseracea. Devi sempre sapere la familiarità di un'erba proprio per andare a individuare quelle che possono essere delle allergie. Quest'olio può essere utilizzato in tanti modi, cercherò di essere breve. Allora, può essere utilizzato per inalazione, topicamente e anche per assunzione diretta, se siamo certi della purezza dell'olio. Tutto ciò che senti in questi video sono informazioni preziosissime che riguardano il prodotto Doterra. Doterra ha oli puri certificati, sono delle miscele terapeutiche, quindi tutto ciò che senti in questo video è riferito all'olio Doterra. Quindi tutto ciò che non è Doterra, non prendere in considerazione quelli che possono essere queste indicazioni qua. Allora, i composti chimici della bosveglia possiedono effetti antinfiammatori e potenzialmente anche antitumorali. Perché è molto prezioso questo olio? Perché possiede proprietà antiematiche, antisettiche, analgesiche, battericide, vasodilatatorie, antinevralgiche ed è considerato anche un blando sedativo. Ci sono dei tanti studi sulla bosveglia e gli studi dimostrano che quest'olio praticamente manda dei messaggi al sistema limbico del cervello in grado di influenzare il sistema nervoso e per tali ragioni viene utilizzato come antidepressivo, tranquillizzante ed equilibrante del sistema nervoso. Rimarrai molto stupita adesso quando ti dirò perché cosa viene applicato. Considera che in molti regioni del mondo, perché Doterra è presente in tutto il mondo, curano queste patologie con quest'olio. Viene utilizzato per curare morbo di Alzheimer, artriti, asma, respirazione, commozioni cerebrali, depressione, fibromi, cirrosi epatica, memoria, sclerosi multipla, tumori, ulcere e verruche. Guarda sono veramente tantissime le cose da dire, adesso ti do brevemente 15 usi che io personalmente ti suggerisco. Allora intanto è un calmante, in questo caso lo puoi inalare insieme alla lavanda e alla menta piperita e applicare sul collo e per alleviare lo stress e accalmare la tensione. Lo puoi utilizzare per nutrire la pelle, usare una goccia di incenso insieme a tre gocce di olio vettore per una pelle bella pulita e luminosa. Io lo utilizzo insieme all'acido ialuronico o lo inserisco al momento in applicazione serale della nostra crema notte. Poi diffondere con il diffusore perché ha un profumo gradevole ed ha il buon umore. Utilizzato come profumo sortirà a tali effetti e favorirà veramente un senso di equilibrio emotivo e di armonia. Io quest'olio lo metto nei miei braccialetti di pietra lavica e quindi io porto con me questo profumo meraviglioso che veramente porta equilibrio e armonia e te lo garantisco. E' un potente idratante quindi puoi strofinare l'incenso sulle mani dopo una lunga giornata di lavoro manuale per addolcire la pelle e calmare l'infiammazione. Favorisce la concentrazione quindi migliora la tua concentrazione e per far questo devi applicare una o due gocce sulle tempie. Rafforza le unghie quindi quando facciamo la manicure che tu sia uomo o donna mettiamo una goccia sulle unghie e su tutto il giro cuticole. E' salutare quindi diluisce una goccia di incenso in un cucchiaino di miele o in una tazzina di tisana ogni giorno. Tisana mi raccomando stiamo parlando di 37 gradi al massimo e questo favorisce una buona salute cellulare e di difese immunitarie. A questo proposito ti faccio vedere come lo ingerisco io. Io lo abbino al mio OnGuard in gocce dove vado a mettere due gocce di OnGuard e poi vabbè mi metto tutti i miei oli nelle capsule vuote. Ok? Nelle baggy cups. Adesso lo apro per farteli vedere. Sono sempre di do terra, le puoi trovare sul sito, sono capsule vegetali senza sostanze tossiche. Ti vai a mettere dell'olio di oliva, l'incenso, insomma le gocce che ti servono, chiudi e lo butti giù con un pochino d'acqua. Mi raccomando prima mettiamo gli oli essenziali e poi l'olio. Chiudiamo, li mescoliamo bene, li sbatacchiamo e buttiamo giù. Questo è l'utilizzo che faccio io. Considera che io nella mia capsula vuota metto sia la mirra che il limone che l'OnGuard che l'incenso perché quando parlerò della mirra scoprirai che io sto seguendo un protocollo di una malattia autoimmune che ho e mi sto curando, io mi curo con gli oli da una vita. Poi è un rilassante, quindi l'incenso può essere applicato sotto la pianta dei piedi per rilassarti e calmare gli sbalzi di umore. Viene usato anche per calmare le madri in attesa durante la gravidanza e il parto. Quindi lo puoi diffondere nella stanza e lo puoi anche massaggiare sul petto e sulla nuca. È un rigenerante, quindi dopo la doccia aggiungi qualche goccia di incenso insieme magari al tuo olio dopo corpo, o sulla pelle umida o con l'olio vettore. Intanto sentirai anche il profumo, il profumo di quest'olio e quindi avrai anche una sensazione rilassante. Ravviva la cute perché può aiutare ad avere una pelle radiosa e rallentare i segni dell'età. Quindi vale sia per il viso che per il corpo. Lì puoi applicare una goccia sull'olio vettore nelle aree interessate. Io già penso anche a situazioni tipo lassità cutanee, piuttosto che aree del corpo eccessivamente secche, piuttosto che rughe. Perché no? Io lo utilizzo anche sul viso insieme alla merra. Poi vitalizza le cellule. Quindi l'incenso promuove la proliferazione cellulare, quindi può essere assunto topicamente o in capsule per favorire la salute delle cellule. Ha un effetto calmante, come abbiamo già detto, e per dare sollievo all'ansia e creare uno stato d'animo positivo, puoi combinarlo con la menta piperita e il wild orange. Lo metti nel palmo della mano, lo strofini e inali profondamente. Questo mix ti aiuterà anche contro la sonnolenza pomeridiana. Se dopo pranzo vai un pochino in down, questo ti tira su all'istante. Poi, oltre a un rilassante e un rivitalizzante, quindi puoi versare qualche goccia nella vasca, diffondere nell'ambiente per favorire la rigenerazione e il relax, combatte le rughe, come abbiamo detto prima. Quindi è usato da secoli per i problemi della cute. È meraviglioso anche contro l'invecchiamento della pelle. Ricorda, te lo dico per inciso. Quindi se ce l'hai, una goccina sul viso, insieme alla tua crema, al tuo olio vettore o al tuo siero, mettila sempre. Lo puoi applicare direttamente sulle zone critiche. Ma allevia anche i dolori muscolari. Quindi quando hai la tua miscela, il dip, o comunque ti vuoi fare un massaggio per i dolori e i muscoli, oltre alla tua miscela o anche da solo, metti qualche goccia nel tuo olio vettore. Lo puoi utilizzare anche nelle giornate calde per rinfrescarti e rilassarti. E puoi massaggiare anche se soffri di crampi. Quindi, amica mia, guarda, l'incenso è veramente uno degli oli più preziosi, come ho già detto, che ho in casa. Io te lo straconsiglio. Guarda, ti faccio anche vedere i braccialetti dove li applico io. Non voglio fare un video traballante. Questi sono i miei braccialetti. Questa è la pietra lavica dove viene applicato l'olio per avere un'inalazione che dura tutto il giorno. Così porti sempre dietro con te questo prezioso olio, il re degli oli. Buon tutto, è il caso di dire, con il nostro incenso. Vogliatevi bene, condo terra.